Mauro Castelli, oggi una prestazione 50%, io ci speravo, chiaramente non è successo così, ma di fronte a una squadra di questo tenore qui, di questa levatura qui, era impossibile presentarsi a seconda parte con le forze energetiche che sono state spolpate durante la settimana con l'altra partita, con la sorella del Montecatini. La cosa molto positiva è che siamo usciti da una partita di sabato scorto a Castelfiorentino in una maniera veramente imbarazzante, tant'è che sono stati presi anche dei provvedimenti forti e la risposta c'è stata subito mercoledì a Montecatini con la prima classifica, o la seconda, non vorrei sbagliare fra l'una e l'altra e oggi con l'altra. Quindi abbiamo fatto tre partite in una settimana con le più forti squadre del campionato. Quindi, cosa dire, tecnicamente potevamo sapere già che non sono queste le partite che dobbiamo vincere a tutti i costi, però ci proviamo. Quindi, devo dire, oggi ho rivisto la squadra di mercoledì a Montecatini nei primi due quarti, poi probabilmente un po' anche la stanchezza, abbiamo perso la concentrazione, un po' di errori e ci sta, insomma, l'unica cosa che dobbiamo mantenere sono il ricordo di questi tempi, dei due tempi di Montecatini e di questo primo tempo di Arezzo. Quindi, se andiamo avanti su questa strada qua, sicuramente va bene. Per spiegare bene a chi non mastica di pallacanestro, vincere una partita come questa, tutto è possibile nello sport, però il paragone sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, è come se la Juventus venisse a giocare con il Quarata, ecco, con tutto il rispetto per il Quarata. Ci si può provare, però quasi sempre rimane difficile. Quindi abbiamo comunque fatto una buona prestazione nei primi due quarti, benissimo, e nei secondi abbiamo pagato un po' la stanchezza.